Cari amici ben ritrovati, ancora per qualche ora la circolazione depressionaria insisterà sull'Italia determinando annuvolamenti irregolari e qualche breve rovescio o temporale su zone interne ed appennino. Domani il tempo tornerà ad essere buono su gran parte del paese, anche se nel fine settimana assisteremo ad un nuovo cambio di circolazione con addensamenti irregolari tra nord, centro e Sardegna e qui con possibili piogge a causa di correnti umide meridionali. Nella prossima settimana un ulteriore richiamo di correnti meridionali spingerà aria calda di matrice africana sulle regioni meridionali e parte del centro. Ne deriveranno temperature estive, particolarmente all'estremo sud e sulla nostra Sicilia, anche grazie ai venti di scirocco che spingeranno i valori massimi fino quasi ai 30 gradi. Seguiremo gli aggiornamenti, vediamo adesso il tempo per la giornata odierna. Nuvolosità irregolare su tutte le regioni, con rovesci sul nord-est dorsale appenninica del centro-sud e qualche possibile pioggia sui rilievi di nord-ovest. Sulla nostra provincia giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con temperature di 19 gradi nei valori massimi registrati alle ore 14 e minimi alle ore 23 di circa 14 gradi. Venti moderati soffieranno da nord-ovest e da sud di debole intensità nella sera, con il mare nello stretto di Messina tra il poco mosso ed il mosso. L'intensità solare più alta si è registrata alle ore 13 con un valore UV di 9.1. Sul versante tirenico solleggiamento diffuso, le temperature si porteranno ai 19 gradi diurni e 14 nella notte e i venti moderati soffieranno da nord-ovest con il mar tireno tra il poco mosso ed il mosso. Sul versante ionico poco nuoloso, le temperature si porteranno 21 gradi diurni e 12 nella notte ed i venti deboli soffieranno da nord-nord-est, da est nel pomeriggio e da sud-est nella notte con il marionio poco mosso. Nella giornata di venerdì 6 maggio prevalenza di sole su tutto il paese con temperature in aumento. Sulla nostra provincia giornata di sole con temperature in ulteriore aumento comprese tra 20 gradi, valori massimi previsti alle ore 15 e minime di 13 alle ore 6. Venti deboli soffieranno da sud-est con mari poco mossi. L'intensità solare più alta si registrerà alle ore 13 con un valore di 9.5 UV. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.